Ciao a tutti, mi chiamo Valentina Varzaghi e sono una content creator in IED. Sono la coordinatrice del corso di specializzazione in content management e copywriting. Lavoro per diverse realtà aziendali ed editoriali. Cosa faccio nello specifico? Creo contenuti che possono essere testuali e visivi per i loro canali di comunicazione. Oggi sono diversi i canali attraverso cui le aziende e i brand si comunicano e ognuno di essi ha ovviamente delle proprie regole di sviluppo e va alimentato di continuo con contenuti che possono essere testuali, visivi, quindi fotografici o video, contenuti grafici. E il mondo del contenuto e quindi la professione del content creator è una professione che è in continua evoluzione. Il corso in content management e copywriting si propone di dare a ogni partecipante gli strumenti per affrontare al meglio questo tipo di professione oggi nelle aziende. Fear Rouge dell'intero corso è la creazione di un sito internet che ogni partecipante si troverà ad utilizzare come strumento pratico diretto degli insegnamenti che man mano verranno affrontati dalla scrittura per il web alla SEO dalla content strategy alla social media strategy dalla comunicazione al marketing in modo tale che il contenuto venga collocato all'interno di un piano di comunicazione più generale di conseguenza un piano di comunicazione integrato. Al termine del corso ogni partecipante avrà gli strumenti utili per approcciare la professione del content creator nelle aziende o nelle agenzie sapendo come lavorare sui contenuti in base ai canali scelti dal brand e sviluppati in una strategia di comunicazione. Se pensi che la professione del content creator possa essere la tua ti aspetto al corso!